Hola, io sono Marcus Crono Io sono Shifty Vine Bentornati in Prison Architect Le ultime puntate abbiamo fatto cani Che non andavano a dormire perché non avevo fatto la stanza della cuccia Abbiamo fatto le armi, le guardie armate E stavamo cercando come risolvere il problema della libertà vigilata Perché ne ho 9 in coda Abbiamo fortunatamente scoperto Abbiamo trovato Yes, inudenza a scarcerazione, eccolo qua Ci abbiamo dalle 6 alle 10 del mattino Andiamo a vedere E a questo punto, visto che tutti dormono Facciamo skip, 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 skip No, ancora sonno, non ti preoccupare Ok, molto bene Tiè Ok In massima sicurezza Guarda, guarda, guarda Tana per lui Lello, vai in isolamento Stronzo Tra l'altro con la policy sbloccata Abbiamo scoperto Eccola qui da qualche parte Che possiamo cambiare un botto di roba Possiamo togliere i pasti Dare i pasti Dire quando è il limite della libertà condizionata Ovvero quando non fa troppi errori Non cerca di distruggere niente e tutte cose È figo e ci sta Sono le 10 Ti prego, dimmi Che qualcuno ci va qui dentro Per favore Perché altrimenti Mi sento davvero un coglione Anche perché mi danno dei soldi Se il tizio se ne va Ok, sono le 10 Sono le 10 Sì Dai Vieni Venite Vi prego, venite Questi stanno facendo il corso della droga Il corso della droga Sì Cioè, praticamente, si drogano E quello è il corso della droga È bello Allora, possiamo vedere che non funziona Non funziona Perché è molto arrabbiata Perché non funziona, ragazzi Ah, devi metterlo qui, forse Dove? Nel tempo libero Ah, è vero Cioè, non lo so Non lo so No, aspetta, è un corso Però effettivamente se loro dalle 6 del mattino ai 10, no? Mm Stanno Però dice in coda 7 Non era di meno prima Boh, qui dice 8 invece Oh, Gesù Allora, dalle Oddio, che succede? Dicesti che bagate non possono essere svuotati Cosa? Tu sei svuotato Non è vero Era tutto tranquillo Allora, dalle 6 alle 10 Dobbiamo E come facciamo dalle 6 alle 10? Non escono dalla cella Dalle 6 alle 10? Vabbè, Alari Andiamo a vedere un attimo I nostri Cioè, davvero A certe volte mi impazzisco totalmente Allora, dalle 6 alle 10 I tizi Vabbè, però no, no 7 ce l'hanno Sai che facciamo? Sì Doccia, doccia No Insieme le fai fare doccia No, staccati In cella, in cella Ok E Dalle No, 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 no Dalle 9 alle 10 Ok? Dici che è tempo libero? Ma sì, tempo libero Loro fanno doccia Loro stanno in cella Fanno doccia E poi un'ora e mezza 3 ore di tempo libero Forse è troppo E poi È un lavoro tipo Una roba simile No, non credo Che sia un lavoro Lavoro e cella Dici che è un lavoro? Lavoro e tempo libero Boh Allora, facciamo così Vabbè Però c'ho paura Lavoro c'è Facciamo Così Ok? Andiamo a vedere che cosa succede il giorno dopo Attenzione 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 C'è un qualcuno Ma è massima sicurezza Fermi tutti Ragazzi Vediamo cosa succede Vediamo che cosa succede Riabilitazione Allora, questo qui È l'agente di libertà vigilata E questo qui è l'avvocato di libertà vigilata Io però prenderei Il tizio E lo farei andare un attimo qui Perché se si incazzano Mi stanco Non importa Vediamo un po' Dove vai? Sei andato ragazzi Ma cosa fa questo ogni vivo? Non lo so Pronto Tutto bene Lei ha qualcosa che non va Dura quattro ore E la madonna Che devo dirsi Eh vabbè Lei è sicuro Di non vuol più stuprare i bambini Abbastanza Manca un posto Manca un posto Perché qui c'è qualcun altro Non lo so Sinceramente Speriamo che non succedano casini Ragazzi Dovrebbe finire alle 10 Vediamo un po' Cosa è successo? Fermi Che cazzo? Che cazzo? Newell Va a fare la pipì Ma Intestino È punito e arrabbiato Mi sa che non è stato Scarcerato No Decisamente no Ok D'accordo D'accordo Quindi non sempre funziona Però ragazzi Se funziona Mi dovrebbe dare 3.000 dollari A tizio Che se ne va Quindi Quindi abbiamo scoperto Che questa cosa Non serve a niente La leviamo Facciamo doccia Cella cella Tempo libero In cella Pasto Ok ci sta Siamo ritornati come eravamo prima Allora Come facciamo a fare questa? Allora Fai lavorare Tre detenuti in lavanderia Tre detenuti in cucina E tre detenuti Nelle stanze della pulizia Mi toglierebbe tante rogne Perché E soprattutto soldini Però immagino Che ci siano dei corsi Quindi officina No Igenia Che cos'è questo? Igenia Tenuto da un cuoco In cucina Durata due Hanno bisogno di un fornello Volontario Pratico E facile D'accordo Mentre questo qui È educativo Cioè Praticamente Insegnano a legge Scrive E fa la matematica No Quello si cazzo Si fai premai La fuori Allora Quindi Per fare questo Ho preso la testa E costruito Le strutture necessarie Per mettere Al lavoro I carcerali Va bene Ok Stiamo calmi Credo che questo qui Vada bene per la cucina Yep Quindi Avvia Tre detenuti due C'è un problema Perché non posso avviarlo Questa C'è troppe robe Guarda Vedi questo qui Stava quasi Non posso avere altri corsi O forse vuole Mi sa che vuole un fornello Non sarà già il fornello Non saprei 5 posti Da due sessioni Costa 100 dollari Un cuoco in cucina Durante una sessione Di due ore Ogni Ho bisogno di un fornello Mmm Cucina Forse Non posso andare in cucina Perché c'è la porta del personale Credo Credo sia questo il problema Penso Ce l'accompagnano le guardie A sto punto Eh Nope Nope È volontario Sta nella loro Ora libera Eh Quindi Ragazzotti Proviamo a buttare giù Questa Questa porta Io ho molta paura Di quello che può succedere No Vuoi dire massima sicurezza? Eh? No L'hai tolta nella loro ora Amore non succede niente Pure c'è un'altra porta identica Che non possono attraversare Giusto E poi comunque per uscire Se rubano qualcosa Devono fare il metal detector Quindi Ci sta Andiamo a Mettere una porta normale Ok Che si incastra ovviamente Perché altrimenti Eh Cucina No No Molto arrabbiata Pronto Prometterne un altro a casa Pronto Ok Qual'era l'altra cosa Che voleva Ciccio? Stanza da polizia Che credo sia la stessa cosa E lavanderia Che credo che purtroppo Sia la stessa cosa Signori perché cazzo non funziona? Tenuto da un cuoco in cucina Durata la sessione Due ore Ogni detenuto ha bisogno Di un fornello Questo qui che cos'è? Un fornello Ci sono i fornelli Ma poi adesso Quello non c'è cibo? No Pronto No Aiuto Riprogramma i vari corsi Cosa? Che è successo? Non ne ho idea Davvero Davvero Molta 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 Paura Ah questo qui è il tizio Che sta Per essere scarcerato D'accordo signori Allora ragazzi Io sto smadonnando Cioè Shifti qui Lo sa che sto smadonnando Però è successa una cosa Ho trovato un modo Per baggare il gioco Non mi accetta Ho fatto pure un'altra cucina Ragazzi Non mi accetta Figlio della merda Il coso Il corso Ok? Ho fatto un'aula Non mi accetta neanche quest'altra Quella D'educativo di base Vedi? Avvia Interessati Tutti i requisiti del mondo Vaffanculo Niente Non funzionano Allora 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 Ho messo Quattro stronzi Qui in lavori forzati E guardate qua Me li ha tolti Quindi se io vado in lavanderia E faccio così Me li togli Ma perché? Se io vado Nella stanza della pulizia Qual è la stanza della pulizia? C'è una stanza della pulizia Che cazzo? Cosa? Oddio C'è l'armadio delle pulizie Minimo Minimo Perfetto Lo facciamo subito Dove la vuoi? Nella stanza della pulizia Sì Infatti che cazzo Questa è No è 3x3 di interno Ci sta Ci sta Fidati Richiede un'entrata No Tu madre richiede un'entrata Sappiamo benissimo Di che entrata Si parla Facciamo così E poi sicuramente Butterà giù il muro Io ho qualche dubbio Ce lo dico Hai qualche dubbio? Dai almeno Almeno mi da la sovvenzione Poi i miei detenuti Rimarranno ignoranti Come capri Io non sfrutterò mai Il gioco Guarda vedi Me l'ha tenuto bene Dai Ok Stanza Del pattuno Pulizia Armato e pulizia Vuole soltanto un interno Ok Sei una stanza della pulizia Adesso Dai a lavorare Ok Andiamo su schieramento No Logistica E gli diciamo Non ci stanno No Non ci stanno La stanza della pulizia È più grande del mondo Aiuto ragazzi Aiuto Salvataggio automatico Grazie a Gesù Che ci salvi L'automatico Sì grazie a Gesù Ok Cos'è sta roba Cos'è Aiuto Prodotti radioattivi Ma che cazzo What No ragazzi Che cos'è sta roba Pila Candeggina Ah ok Ah D'accordo Così entro un detenuto Visto che è una posta normale Prende la cadeggina E via Morti avvelenati Signore e signori Ok Allora questa cucina È proprio buttata a cazzo Vedi potevo utilizzare questa Invece Un'altra cucina Vabbè No Ok vediamo un po' se Sì va bene Ok d'accordo Quindi Allora andiamo su logistica No E metti uno Sì Lavoro forzato Oh merda santa Perché 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 mi odi Dici tre tizi È gigantesca Guarda qui dentro È piccola È più piccola Ma aspetta È più larga Però È più larga No Ragazzi Non lo so Non lo so Allora ho un'idea geniale Ascoltatemi Sentite Devi riassegnarla Pulizie Cosa Sono un idiota Sono un idiota Grandissima Shifty Grandissima Sì Soldi Soldi Ragazzi Però non la userà nessuno Non la userà nessuno Perché Gesù ci odia Già E quindi se io avvio questa Mi dice niente Avvio questo Niente Ho fatto la scuola Ragazzi Guardate qui che dice Un insegnante in un'aula Tre ore Ma io sto insegnante Ma Ma c'è l'insegnante Lavoratore Guardi È medico Qua con il giardino Inserviente Non c'è Non c'è L'insegnante Perché 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 Ok Almeno abbiamo preso Non abbiamo buttato la puntata Abbiamo preso la sovvenzione Quindi Che altre sovvenzioni ci stanno La massima sicurezza Adesso ancora non mi conviene Le strutture Manifatturiere Carcerare Produci 30 targhe Eh ma se non mi vanno a studiare Rinserimento tramite Iniziative educative Eh non vanno a studiare Allora Facciamo così Costruisci 20 banchi No Gesù Porca puttana 20 banchi Oh merda 20 banchi Fai completare a 10 Di tenuti Il corso educativo Di base Oh no Di nuovo Allora 20 banchi Li devo fare entrare Qui Sì Da ti conviene Ok Che palle vivere Ragazzi Se adesso Non mi entrano Gli stronzi Con 20 banchi Spacco tutto quanto Davvero Spacco tutto quanto Comunque ho licenziato Un sacco di gente Infatti i lavoratori Sono molto pochi Come potete vedere Dai chicco Dai chicco Dai chicco Lesto proprio Oh segna aula Aula Tac Ok Adesso Non prende più il cazzo Adesso Banco Ah Tac Uno Allora questi sono 10 eh No perché Perché è storto No è un po' È normale Sì Quindi 3 4 5 Undo 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 presto Oppela E oppela 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 E oppela E oppela E non è molto precisa questa stazza Ma il pezzo di rostia Non è neanche a dove cagare cazzo Sta gente Ok ragazzi Sì 20 banchi Adesso stanno arrivando I nostri 20 banchi Ringraziamo Ah perfetto Ok Adesso Se io vado qui Vado nei corsi Ho tolto pure quello dei Non c'è nessuno Oh uno l'ha superato Guarda i soldi Su 15 Guarda i soldi Perché sti soldi Ah perché avevo fatto quella cosa là Educativo Uno uno Perché Non lo so Non lo so Facciamo che interrompo tutto No Non lo Potrei mettere quelle che vedi prima Per vedere se lo prendo Ho paura Sì Il trattamento farmacologico In cosa La terapia comportamentale No Intensa No Quella Udienza Scarcerazione Sì Vedi che le prende Ragazzi Che cosa devo mettere Shifty L'orario Devo mettere l'orario Sì Quanto è che allora ho messo l'orario Udienza Trattamento Ma l'ho messo dopo Non prima Voglio morire Sì L'ho messo dopo Quando me l'ha messo lui A meno che non ci sia qualche problema Tipo che ne so Che gli orari Non Eh ma no L'ho tolto L'ho tolto Ragazzi L'ho tolto L'ho tolto Dove Cazzo Stanno Perché Gesù Non lo so Ci odia Gesù ci odia Gesù ci odia Pericolo basso Cioè la mia prigione È fantastica Soltanto che non vogliono Apprendere Sti stronzi Non vogliono Poi qui c'è una luce Tutto buio Stato che non abbiamo chiuso tutto Cioè abbiamo chiuso il gioco Riavviato Quindi Non lo so Forse perché ho installato le modi Ma non credo Perché gli altri partono Logistica Lavoro forzato Non posso farlo Qualità stanze Non so che cos'è Intelligence Sì va bene Ci dice le cose che ci stanno Personale Non abbiamo L'insegnante Quindi signore e signori Io non ho idea È un oggetto Un insegnante Magari è Un oggetto È un oggetto Perché è un insegnante Un insegnante Eh vedi che c'è Voglio morire Dai ragazzi Qualcuno si interessi Per favore Voglio morire Qualcuno si interessi Oh interessati a igiene Me l'ha presa Me l'ha presa Ragazzi era quella C'era ragione Ragazzi c'era ragione Gli serviva un altro slot Di lavoro No l'avevi tolto Eh L'avevi tolto Non c'era nessun lavoro No gli ho detto Gli serviva Gli serviva Se andavamo a regime Qui non c'era lavoro Ma perché non c'era lavoro Perché so stronzo Probabilmente Cioè ragazzi Igiene Oh finalmente Mamma mia Mamma mia Finalmente E ti anche l'educazione Tu sei l'educazione Vediamo un po' Come ti permetti Vediamo un po' L'educazione cos'è? Lavoro? No Interessati all'educazione Ah eccolo qua Vai Chicchi Vai Vai lavorate Dovete lavorare Vediamo un po' Vediamo un po' Stanno a dormire Quindi vediamo il cazzo Che te si prega Skip 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 Vediamo se Non mi ricordo a che ora Si svegliano gli stronzi Dipende Da che dipende? Dalla massima Alla massima Da che mondo Guardi il mondo Tutto dipende Depende Da che dipende? Guarda c'è un'udienza Soldi Tanto perderà sicuro Perché sono sempre Quelli di massima Che vanno Guarda Molto arrabbiato Gioni senza incidenti Guarda 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 Ora muore qualcuno Ora muore qualcuno Sicuramente Perché in aumento Figlio della merda No Boh non lo so Allora a me Sto tizio che viene comunque A cucinare Anche se gli ho tolto le cose Davvero c'è Io Non ho Guarda il frigo di là Tutte le cose Togli Togli immediatamente Tutto la cucina Molto arrabbiato Molto arrabbiato Co Ombru Ok Perfetto Vediamo se questo qui ce la fa Diamo un'occhiata A come Certo Un po' più piccola Stagui È attivo L'udenza della scarcerazione Ok perfetto E questa qui Dalle tre Dalle tre Trattamento farmacologico Mortacci Ah no In coda sei Dai Dai Sono contento Che le abbiamo Dalle tre Alle cinque Dalle tre Alle sei Ci sono Solo due persone Me ne servono dieci Va bene D'accordissimo Oh i ce ne però Mi faccio sei E daie E daie ricchi Anche se effettivamente Ci sta solo quattro fornelli Quindi è difficile Che ce ne possano essere di più Ma a noi ci servono Due stronzi Due stronzi E due stronzi Ma in realtà no Perché In realtà non ci serve più Ancazzo Perché l'abbiamo evasa Quella cosa Però in realtà Se io potessi Licenziare un cuoco Non sarebbe male Cosa Stai facendo Togli i lavori forzati Perché tipo A me quattro stronzi Non mi servono Ma non sono i cuochi Quelli Con i lavori forzati No sono i tizi Che fanno i cuochi E con i lavori forzati Sofia Come ti permetti Chiamami Sofia Scusi Shifty Minds Aio Aio Ed ecco che muore Perché muore Ok Shifty si è ripresa Dalla brutta esperienza Perché Shifty Me lo ricordo È frascica Soltanto per voi E vediamo se funziona Sto coso Corso Sono le due A che ora ce l'abbiamo Alle tre Igiene e sicurezza E Soprattutto Questa qui L'educazione di base Fai completare a dieci studenti Se ne ciavo L'allero Proprio Sono È andato qualcuno È un insegnante È un insegnante Che aspetta e se ne va Perché è andato via Perché è andato via No è andato via Nessuno No chi è questo Dove esco Detenuto Ah perché Senza Le guardie Non vediamo Non vediamo Vediamo un po' Non c'è nessuno Non c'è nessuno Bravo ciccio Complimenti Che hai fatto Furto Perché è otto anni Poverino Sicurezza minima Sai che hai dichiarato colpevole Ex moglie Perché si è lasciato L'ex moglie c'è ha 18 anni Ah lui c'è una 19 Va bene È accettabile E vediamo che Ti è Guarda come la va Perché ci piace la pancetta per terra Perché a noi ci piace la pancetta azzotta E questo qui lo sta Spiegando Quindi mettere più cose Cosa più cose Fornelli Fornelli Questi quanti sono interessati La cucina Sì Due Ah no Prima erano di più Rensette Uno è finito Zero superati Però zero superati Cioè è stato bocciato Che fa Il cuoco boccia le persone Non ho capito Non ho capito C'ho un botto di gente In udienza a scarcerazione Non so come fare Mi sa che devo mettere più tavoli Dove ragazzi Ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti a far studiare Una persona un minuto E poi è sparito E abbiamo Siamo riusciti Mamma mia Che bucciaccio De culo Comunque Signori Dai Ce la faremo prima o poi Forse Dai però siamo in attivo 52.000 Telefono cellulare Cosa Ti spacco il culo Strozo Signori Guarda guarda Droghe Droghe Mi sa perché Il posto della monnezza Non dovevo Proprio Metterlo Qui No Bella ragà Ciao 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 Ciao